Salve a tutti ragazzi, qui dagli Alcatraz, qui con noi c'è... Salve a Milotto 98 E Zigbee, stiamo giocando a FIFA 15 sulla PS4 E c'è un brutale fallo da parte di Ibravimovic Vai! 3, 2, 1 Preparatevi al peggio Allora, qui Migdalian Normalmente tira Vuole andare a riprendere la sua palla BORGOL TROI Che bella espressione Mai sfidare Ibravimovic, mai Aspetta, aspetta Ah, guarda la sgomma da lasciare per terra ragazzi Una cosa marrone incredibile Aspetta, 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 aspetta Porca putta Guarda l'erba volta fatta a penso Bella a tutti ragazzi, qui dagli Alcatraz